non la vuoi la luce, così? si ecco, va bene così ah, film, film, filmate ho visto un po' quando, quando vedremo il modulo, per parlare la musica i lettori, i lettori, io non so di più, io non so di più, io non so di più, io non so di più e rilasci da pure il master 1000, il CR, la MC, la sabana, il CR, il CR, il CR 469, questo è il numero, 469